Buon pomeriggio a tutti. Dagli incontri che si sono svolti nel pomeriggio di ieri e nella giornata di oggi, è emersa da parte delle forze politiche la disponibilità comune a procedere con un confronto sui temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi. Per questo promosso l'avvio di questo confronto nella mattinata di domani qui a Montecitorio. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.